buongiorno nel video precedente abbiamo detto che il ti amo detto dal narcisista significa voglio che tu mi ami dove l'altro però è percepito come la fonte narcisistica di soddisfacimento quindi ciò che il narcisista sente è un desiderio di amore che non equivale alla capacità di amare e di dare il narcisista vuole avere quindi vuole colmare il senso di vuoto quando il narcisista per esempio gesticola le sue mani come possiamo notare assomigliano a quelle di un bambino che si protende per essere preso in braccio dietro a questa immagine c'è la paura di cadere nel vuoto in questa situazione la ricerca di contatto con l'altro la ricerca di prossimità genera un senso di ambivalenza non a caso il narcisista non sopporta di essere lasciato e per evitarlo abbandona per primo il partner e tende a sviluppare un attaccamento ansioso ambivalente con un'esasperata richiesta di contatto come dice lowen l'amore vero non è dare ma è essere aperti l'amore vero è apertura questa apertura deve essere in primo luogo verso se stessi verso la propria interiorità poi verso l'altro questo implica l'essere in contatto con i propri sentimenti sentimenti più profondi ma bisogna anche essere capaci di esprimerli questi sentimenti in modo adeguato quindi l'amore adulto non è una resa di se stessi ma è un consegnarsi a se stessi ovvero l'io cede al cuore è una resa che non ha niente di negativo l'io non deve avere paura di disintegrarsi ma deve sentire di uscirne arricchito da questa esperienza ecco la vera cura per il narcisista il narcisista deve ripristinare la capacità di arrendersi ai propri bisogni che passano per il corpo non a caso durante l'allattamento il fatto di aprirsi e di protendersi comincia con un'ondata di eccitazione al centro del corpo che fluisce verso il torace le braccia la gola la bocca gli occhi il sentimento che accompagna questo movimento può essere descritto come un protendersi il neonato si apre si protende con amore e così può prendere nel corpo l'amore che gli viene offerto questo il modello è un modello che propone soprattutto l'ho un vero esperto sul narcisismo non a caso il carattere orale trova la sua genesi nel periodo in cui la bocca gli occhi sono il principale organo di comunicazione con il mondo quando appunto le attività principali del bambino interessano la nutrizione la fase orale comprende la fascia d'età dai sei mesi a circa due anni di vita nella quale il neonato vive cicli di sonno di veglia alternati da poppate il bambino progressivamente sperimenta le esplorazioni dell'ambiente in un graduale processo di indipendenza ed è fondamentale la capacità dell'adulto di sintonizzarsi sui veri bisogni del bambino se questa sintonizzazione empatica tra adulto e bambino avviene solo parzialmente o non avviene affatto il naturale percorso verso l'autonomia verso l'individuazione si arresta oppure rallenta e il diritto del bambino di essere nutrito adeguatamente di cibo e di amore nel rispetto dei suoi ritmi personali viene negato in particolare al bambino non viene riconosciuto il suo legittimo diritto di avere bisogno l'ho ci insegna come la gioia di questi momenti di reciprocità tra la madre il bambino vede il lattante aprirsi e protendersi per ricevere il seno della madre al padre per al pari per esempio degli uccellini di una nidiata quando il loro becco si spalanca allungandosi verso quello della madre per il bambino non si apre solo la bocca si apre la gola per fare scorrere queste sensazioni amorevoli diffondendoli per tutto il corpo e il sentimento che accompagna questo movimento può essere descritto proprio come un aprirsi ovvero il neonato si apre e così può prendere nel suo corpo tutto l'amore che gli viene offerto quando un bambino nel suo spontaneo protendersi incontrerà una madre con un atteggiamento ostile ambivalente con sentimenti di amore di odio e quindi anche di indifferenza sarà destinato a strutturare un tratto orale nel suo carattere e potrebbe diventare un narcisista la madre del bambino orale nutre il bambino solo materialmente non offre un contatto corporeo caldo piacevole per permettere al bambino di stabilire armonicamente il suo senso di identità se l'allattamento avviene attraverso il biberò il bambino è privato del contatto stimolante tra la sua bocca e il seno della madre in alcuni casi i piccoli non sono nemmeno tenuti in braccio e allora quando i bisogni orali non sono stati soddisfatti il bambino non è mai pienamente appagato e questa condizione di sofferenza è comunicata con il pianto se ancora una volta la risposta materna e bisogni del bambino dovesse dimostrarsi insufficiente il piccolo esaurirà tutta l'energia di cui dispone disperandosi urlando piangendo fino al collasso l'unica difesa di cui dispone il bambino a questo punto è la negazione del suo bisogno questa manovra difensiva ha lo scopo di risparmiargli in futuro la sofferenza che proviene dal chiedere la soddisfazione del suo bisogno quindi il bambino che si trova nella fase preverbale avrà un pensiero reattivo del tipo non avrò più bisogno di chiedere e perciò non chiederò mai più e questo è un tipico tratto narcisistico il problema nasce dal fatto che il narcisista sente che chiedere è pericoloso e cercherà in tutti i modi di non avere bisogno dell'altro perché il bisogno gli evoca l'esperienza di dolore delle prime fasi di vita quindi il conflitto inconscio è rappresentato dalla necessità da un lato di ricevere amore insieme alla paura di soffrire per la delusione per questo motivo si forma una struttura caratteriale apparentemente indipendente il narcisista crede che il mondo lo debba risarcire proprio perché non ha avuto quindi ripete a se stesso siccome non ho avuto ora il mondo mi deve dare e diventa un abile manipolatore fa credere agli altri di essere molto empatico in realtà sviluppa una finta empatia ma di questo parleremo in un altro video intanto vi rimando ad una playlist che troverete nel mio canale youtube roberto rughe psicoterapeuta dedicata interamente al narcisismo inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata oppure consulenze telefoniche per richiedere una consulenza dovete mandare un messaggio scritto su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza specificando nome cognome e orari preferiti se volete leggere i miei libri li potete ordinare solo attraverso amazon buona giornata